Juve, 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 cosa mi combini? Pare G1-1 contro il Torino Il derby buttato nella spazzatura Ragazzi, sono molto arrabbiato con la Juventus E anche con il fatto che abbiamo pareggiato due volte consecutive una a una Allora, in questo derby avevamo la vittoria in tasca Sapete che vuol dire avere la vittoria in tasca? Vuol dire non prendere gol Non prendersi il contropiede dell'altra squadra Non fare passaggi dietro Ogni due minuti Andare subito a tirare Queste quattro cose dobbiamo fare Per Allora Noi 26 partite 26 partite 26 partite E Penso Dieci pareggi O sette, non lo so E E Abbiamo Iniziato La Carriera E Abbiamo iniziato il campionato quest'anno Con Un pareggio E una sconfitta dopo abbiamo siamo iniziati malissimo in poche parole dopo con vlaovic vabbè prima che venisse vlaovic ci siamo resi conto anche in champions che facevamo schifo quindi pareggiare col torino 1 a 1 di che partita è non mi piace perché avevamo la vittoria in tasca guardate intanto lo stadio è dietro c'è questo avevamo la vittoria in tasca sapete che vuol dire ve lo faccio sapere che vuol dire che dovevamo giocare meglio non saltare sul letto dovevamo giocare meglio dovevamo mettere più entusiasmo dovevamo essere pronti a giocare col torino dovevamo allenarci di più tutte queste cose ragazzi questo pareggio questo pareggio è andato veramente nella spazzatura era una vittoria era una vittoria il gol di delict di testa dopo velotti in sforbiciata quello scese l'ha pure toccata la poteva parare benissimo bravo che hai rispettato le sedie non capisco perché non ha non l'ha presa così così la doveva prendere tipo questo è il pallone questo è il pallone e lui l'ha preso così invece di prenderlo così quindi vi ho fatto pure l'esempio abbiamo giocato male il primo tempo l'abbiamo fatto allora devo dire una cosa l'abbiamo fatto benissimo noi e il secondo l'abbiamo fatto il torino chiudo non parlo più allora l'inter mi dico forse mi pare muoviti con l'inter liverpool mi pare l'inter liverpool andanovic ha fatto sì c'è c'è questo era lui per il pallone quindi andanovic e scesini sono cugini e chiudiamo così da mario sempre tv guuano cammin pare lì su donna jest sono gli uni no aspetta scesini e tipo il 55 per cento bravo andanovic c'è il 47 per cento bravo Amai già per il mondo.